Bentornati a 30 minuti con la medicina naturale. Oggi parleremo di emozioni, parleremo di fiori, parleremo di sentimenti e di anima. La malattia alla sua origine non è materiale, ciò che conosciamo della malattia è l'ultimo effetto prodotto nel corpo, le risultanze di forze che agiscono per lungo tempo e in profondità. Così scriveva Edward Buck, medico nato in Inghilterra nel 1886 e proprio alla fine del 1800 decide di dedicare l'intera carriera alla scoperta, allo studio di quelli che erano i rimedi floreali utili per curare le emozioni, per curare la psiche, perché era convinto profondamente che in realtà sono le emozioni che producono poi degli effetti a livello del nostro organismo e conducono allo stato di malattia. Per chiarire meglio la floriterapia e quindi i rimedi, i fiori di Buck, abbiamo qui con noi oggi un ospite graditissimo, la prima donna tra l'altro in trasmissione, la dottoressa Luisa Pedrelli. Benvenuta, siamo lieti di averla qui con noi. Lei è un dirigente medico dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ed è un'esperta di omeopatia, di floriterapia, di ayurveda e quindi è una donna poliedrica, è deciso anche lei di dedicarsi alla medicina naturale. Ci aiuta a capire in realtà come funzionano questi rimedi floreali e che cosa sono i fiori di Buck? Grazie dell'invito, io mi occupo da parecchi anni di floriterapia che ho un poco, devo dire, sostituito, integrato alle altre tipi di terapia perché secondo me perfeziona e completa quello che è il network importante nella cura della persona. La floriterapia, come diceva la dottoressa, è una terapia delle emozioni, ma non solo delle emozioni, anche dei correlati fisici legati alle emozioni, perché l'emozione è la manifestazione primaria di un disagio, ma a cascata poi provoca dei disagi che si ripercuotono su tutta la fisiologia. I fiori di Buck, le essenze di Buck più propriamente dette, è un sistema terapeutico sperimentato e messo a punto, ideato, devo dire, in maniera sublime dal dottor Buck che nasce batteriologo, ma che nell'evoluzione della sua carriera scopre e pensa che ci sono due disagi nell'uomo, il disagio fisico, ma quello più penoso, lui dice, è il disagio psicologico. Questo scrive nel 1935 in una conferenza tenuta a Sotwell e quindi tutta la sua vita sarà poi una ricerca e un'indagine per scoprire e curare quelli che sono i disagi dell'uomo. I disagi dell'uomo, secondo Buck e secondo quello che lui ha potuto fare nella sua brevissima vita, sono 38. Sono 38 grossi disagi che lui ha associato a 38 fiori, 38 essenze e questi disagi sono delle emozioni archetipali che nella sua poi opera definitiva lui classifica in sette categorie e sono dei disagi primitivi dell'uomo, la paura, la solitudine, il mancato senso di interesse alla vita, il disadattamento e questi fiori sono delle, io li chiamo il giardino delle emozioni perché sono capaci di riequilibrare, di riportare al giusto equilibrio quello che è un disagio emozionale. Cosa vuol dire? Non sopprimere perché noi sappiamo che la paura è comunque qualcosa che ci serve, noi abbiamo bisogno di avere paura, abbiamo bisogno di essere prudenti nelle cose, quindi quando noi andiamo a prendere, a somministrare una essenza, per esempio mimulus, il mimolo è un'essenza per la paura, non andiamo a sopprimere il senso della paura, ma andiamo a equilibrare quella problematica di ansia, di panico che viene per la paura, quindi ecco che il fiore di Bach è armonizzante ogni emozione. Quindi non neutralizza l'emozione negativa, la fa diventare armoniosa, quindi ci consente di viverla bene, non rappresenta per noi più un problema. In realtà ci descriva come avviene una visita quando si vuole dare poi a un paziente un rimedio, un fiore di Bach, come fa il terapeuta a scegliere quali sono i rimedi più adatti alla singola persona. Beh, io sono un medico, quindi come dire, svolgo un po' la mia attività di medico in maniera completa, quindi raccolgo la storia, faccio un'anamnesi, raccolgo la storia, osservo il paziente, come in una normale visita medica naturalmente, però colgo quello che il dottor Bach dice è l'importante e che non è, non sono né le parole del paziente, non sono né le malattie del paziente, né i sintomi del paziente, ma lui è molto chiaro, bisogna cogliere lo stato d'animo e lui lo ripete sempre, lo stato d'animo è quel qualcosa che caratterizza il paziente, la persona e che non è né un sintomo né un atteggiamento mentale, né una fobia, né un'emozione, né un... è il modo con cui questa persona si rapporta con le cose. Vado e mi spiego. Una rigidità può essere una rigidità fisica, può essere una rigidità mentale. Non ha importanza, dice il dottor Bach, c'è un fiore che si chiama, non è un fiore veramente, è l'unico rimedio che non è un fiore, è che il rock water, l'acqua di roccia, rappresenta la rigidità, quindi questa rigidità si può manifestare in senso fisico con dei dolori, con dei problemi che tutti sappiamo articolari, e si può manifestare con una rigidità mentale, ma le due cose sono associate e la bravura del medico sta nel capire questo archetipo che caratterizza il paziente. Si parla sempre di più di medicina integrata, queste medicine che devono collaborare tra loro a quello che è il fine ultimo più importante, il benessere, quindi la salute del paziente, quindi le medicine che collaborano insieme. Qual è il ruolo della floriterapia secondo lei in questo collaborare complessivo? Ecco, questa è una bella domanda, perché è il quesito che viene posto molto frequentemente dai pazienti, ma io posso insieme ad altri farmaci, ad altri rimedi, ad altre terapie usare la floriterapia? La risposta è sicuramente sì. Le medicine, tutti i tipi di terapia si possono integrare, bisogna saperlo fare, farlo nella maniera più opportuna. La floriterapia si può usare in sinergia con altri tipi di cure, addirittura con un farmaco, con uno psicofarmaco, con un farmaco antidepressivo, qualsiasi esso sia. Si può fare in monoterapia, da solo, quindi un fiore di bacca usato da solo, e innanzitutto dobbiamo dire che il fiore di bacca non si usa quasi mai da solo. Si fa un cosiddetto cocktail, se ne associano due o tre, perché naturalmente, in base a quello che ho detto prima, voi capite che trovare una persona con un solo archetipo o con un solo atteggiamento è abbastanza difficile. Quindi ci può essere l'atteggiamento di rigidità che dicevo prima, quasi sempre, associato a una chiusura. Quindi io ho bisogno di lavorare su parecchi fronti. Ci ho detto, questo cocktail di fiori di bacca così si chiama, con questa espressione abbastanza, devo dire, così simpatica, ma così si chiamano. Sicuramente funzionale, si capisce benissimo. Si capisce bene, perché in realtà il farmacista che lo prepara unisce varie essenze. Le essenze sono dei preparati idroalcolici ed ecco che viene questo nome, cocktail. Questo cocktail di fiori di bacca può essere usato da solo in monoterapia e riuscire a recuperare il disagio del paziente con delle cure, naturalmente, che sono più o meno lunghe nel tempo. Il dottor Bach ci dice che nei casi acuti il disagio può essere in maniera facile e abbastanza tempestiva risolto. Nei casi cronici, voi capite, dove il disagio emotivo data parecchi anni o addirittura decenni la terapia deve essere più lunga. Ma comunque, tanto per rispondere, per essere sintetica, si possono associare sicuramente la floriterapia con tutti gli altri tipi di terapia. Ed è un vantaggio enorme, soprattutto perché sappiamo che ci sono tante patologie, lo ripetiamo spesso, quindi c'è chi ha a che fare con l'ipertensione, chi ha a che fare con il diabete, chi ha a che fare con il colesterolo, chi fa uso già di sostanze ansiolitiche e quindi ritrovare gli equilibri grazie ai fiori di Bach può essere utile a tutti, quindi persone che fanno già ricorso a una terapia o no. Ma a questo punto io sono curiosa e lei mi deve raccontare, anzi le chiedo di raccontarmi come si preparano i rimedi di Bach, quindi i fiori, da dove hanno origine? Le bottigliette che abbiamo modo di acquistare in farmacia, con il contagocce, in realtà dove hanno la loro origine? Allora, i fiori di Bach originali, cioè quelli studiati e sperimentati dal dottor Bach, crescono spontaneamente nella regione del Galles, e in particolare a Sotwell, dove lui ha terminato la sua vita. Quindi lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in questa bellissima villetta nei sobborghi di Londra e io ci sono stata, ci sono stata perché sono stata curiosa di vedere dove viveva lui e come erano questi fiori che lui ha trovato. Il sistema di preparazione avviene in due modi, il sistema della solarizzazione e il sistema della bollitura. In pratica non c'è alcuna difficoltà nella preparazione perché queste sommità fiorite vengono messe in un'acqua cosiddetta solarizzata al sole e lasciate in infusione per un certo periodo di tempo. Per altri tipi invece di fiori c'è il sistema della bollitura, quindi un procedimento che ha a che fare con una metodica più alchemica, più profonda. In realtà ci si chiede ma come possono agire questi fiori messi nell'acqua? Secondo me i nostri telespettatori se lo stanno chiedendo. Tutti ce lo chiediamo. Beh, ci sono degli studi scientifici che provano la validità dei fiori di bacca, quindi l'efficacia, rilevando che in questa acqua, che in pratica poi è soltanto l'acqua quella che resta come mezzo visibile, esistono delle vibrazioni ad altissima intensità, paragonabili e uguali a quelle dei rimedi omeopatici ad altissima diluizione, di cui mi pare avete parlato in una puntata precedente, sono quelli che agiscono principalmente sulla psiche. Quindi queste altissime vibrazioni sono capaci di agire in quello che è non l'hardware della nostra fisiologia, ma il software. Perché noi possiamo essere paragonati a un computer, dove abbiamo un hardware che ha bisogno del farmaco. C'è poco da fare. Quando noi abbiamo un problema di dolorabilità fisica, un problema molto grossolano, noi dobbiamo usare con una grossa ponderalità. Ma quando noi abbiamo un problema sottile, emotivo, invisibile, impalpabile, noi dobbiamo agire su quello che è il software della fisiologia umana. Quindi dobbiamo usare delle vibrazioni molto alte e nello stesso tempo molto vicine all'immateriale. Così mi viene da dire. No, è perfetto. Tra l'altro la mia grande curiosità è quella di sapere se nell'evoluzione, quindi nella guarigione di un paziente, subentrano poi i rimedi diversi. Perché da quello che diceva, grazie ai fiori di Bach, è possibile rimuovere o comunque modificare in senso positivo alcune emozioni. Sicuramente, proprio perché siamo esseri umani, le emozioni tendono a cambiare. E quindi se io sto facendo un percorso di guarigione, è probabile che strada facendo io non debba più utilizzare gli stessi rimedi. È corretto? Dunque mi ha provocato, perché qua io devo dire che ci sono due modi di affrontare la floriterapia di Bach. C'è un modo molto più vicino alla nostra vita, alla nostra socialità, al nostro modo di essere, che è quello di analizzare delle emozioni e di prendere i rimedi adatti. L'abbiamo detto prima. Ma il vero scopo della floriterapia di Bach, che lui nelle sue opere ha descritto molto bene, è quello di migliorare il sé interiore. E per migliorare questo sé interiore ci vuole un'evoluzione continua, bisogna percorrere una via molto difficile, e che è una via che porta molte volte a quella che lui dice, il dottor Bach, la crisi. Purtroppo è così. Noi per guarire abbiamo bisogno e dobbiamo molte volte passare attraverso un percorso di crisi. Cos'è questa crisi, dice il dottor Bach? È il momento in cui noi contattiamo la nostra emozione profonda. Quindi noi capiamo perché abbiamo quel determinato tipo di paura, di panico, di rigidità, di chiusura. E in quel momento in cui noi contattiamo il nostro sé interiore, cioè l'emozione profonda del nostro sé interiore, noi andiamo in crisi. Questo è il momento più bello, perché è il momento in cui comincia la guarigione. Ma noi sappiamo che siccome noi non siamo degli individui semplici, noi abbiamo un puzzle di emozioni dentro di noi da recuperare. Quindi una volta finita la cura su un determinato fronte, dobbiamo ricominciarla sull'altro. Ecco che abbiamo bisogno di cambiare il rimedio. Perfetto. Mi incuriosisce anche perché sappiamo benissimo che l'efficacia della cura è data anche da un uso corretto dei rimedi. E quindi vorrei chiederle di chiarirci come si utilizzano i rimedi floreali di BAC in maniera corretta. Devo dire che è abbastanza facile assumere i rimedi di BAC sostanzialmente. Si fanno preparare dal farmacista, si arriva a casa con questa boccettina, con questo contagocce. E si possono usare, le tecniche di somministrazione sono varie. Naturalmente, non so se possiamo accennarle brevemente. Una è la tecnica orale, cioè si prendono queste gocce direttamente sulla lingua. L'altra invece è la tecnica di poterle mettere addirittura a livello dell'epidermide. Quindi si possono fare assorbire in varie parti del corpo. L'altra tecnica è quella di fare addirittura dei bagni. Si possono fare, per esempio, addirittura BAC nel suo libro parla di pediluvi, fatto da alcune persone con delle problematiche, in vasche dove venivano messi dei fiori. Quindi sono varie le tecniche. Ma quello che volevo sottolineare è che si prendono durante la giornata in maniera più o meno ravvicinata. Con una frequenza maggiore noi dobbiamo curare le malattie più acute, più gravi, più penose. Quindi prendendo i rimedi in maniera ravvicinata, ogni due ore sul cronico. Quindi sul disagio cronico possiamo agire in maniera più prolungata. Quindi per un periodo di tempo superiore e magari con due o tre somministrazioni al giorno solamente. Anche perché sappiamo, da quello che magari si ascolta attraverso i mezzi di comunicazione, perché lo si è letto su una rivista, che i fiori di Bach sarebbero particolarmente indicati per trattare proprio le patologie croniche. E quindi viene spontaneo pensare che possono essere i rimedi più adatti anche a trattare un soggetto in età avanzata. È vero che possono tornare utili soprattutto nell'andare avanti con gli anni? Sì, si possono usare nei neonati, si possono usare negli adulti naturalmente, si possono usare negli anziani. Non c'è limite di età per la floriterapia. Assolutamente. Lei mi parlava dei giornali, si leggono ormai su tutti i giornali la floriterapia, floriterapia che fa tutto. E questo devo precisarlo, non è una panacea la floriterapia. Non è la medicina delle cause impossibili. È un tipo di cura che riequilibra le emozioni ma va personalizzata, va studiata. Non basta leggere sul giornale prendi i fiori di Bach per dimagrire, sarebbe troppo facile. Non è così, bisogna vedere qual è l'emozione che ti provoca quel tuo stato d'animo. Siamo sempre là, dobbiamo vedere lo stato d'animo. Non esiste il sintomo nei floriterapia, esiste come il paziente vive. Benissimo. Non mi resta che ringraziarla. È stato un piacere averla qui. Abbiamo parlato di floriterapia, abbiamo parlato di anima, abbiamo parlato di sentimenti e di riequilibrare le emozioni. Quindi la ringrazio vivamente e vi aspetto tutti, assolutamente. A tra poco parleremo di sudore e soluzioni naturali. A tra pochissimo. Bentornati per la preparazione del giorno. Oggi, come vi avevo anticipato, avremo a che fare con il problema sudore e le sue soluzioni naturali. È vero, sudare fa bene, ma a volte può essere fonte di disagio, può essere fonte di insicurezza. Quando si vuole fare una bella stretta di mano o ritrovarsi con le mani sudate, sicuramente non è desiderabile. Come facciamo a controllare il problema della sudorazione? In modo del tutto naturale. Sicuramente grazie alla preparazione del giorno. Gli ingredienti li vediamo subito insieme. Un cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino abbondante, due gocce di olio essenziale di salvia, due gocce di olio essenziale di lavanda, e in caso di sudorazione abbondante, direi di aggiungere anche due gocce di tea tree oil. Gli oli essenziali sono infatti, diciamo, gli agenti mirati naturali più indicati per darci sollievo nel problema sudore. Perché? Grazie alla loro azione antibatterica, antimicrobica, ci aiutano a controllare il sudore, ma ci aiutano anche a controllare l'odore sgradevole che spesso è legato ai problemi di eccessiva sudorazione. Quindi, nella preparazione di oggi, prepareremo uno spray e sicuramente a casa abbiamo tutti un dispenser, un spray che abbiamo svuotato perché il prodotto è finito, conservateli, possono sempre essere utili, e lavoreremo semplicemente con acqua bicarbonato e oli essenziali. Intanto iniziamo versando dell'acqua sul nostro cucchiaino abbondante di bicarbonato. L'acqua deve essere tiepida e soprattutto dobbiamo lasciarla ferma dopo aver rimescolato bene per almeno una mezz'oretta. Qui, già pronta, ho con me l'acqua che ho preparato una mezz'oretta fa e la versiamo nel nostro spruzzatore. Con l'aiuto magari di un imbuto io utilizzerò... Ecco. Dobbiamo lasciare il bicarbonato residuo sul fondo del nostro contenitore, della nostra ciotolina. Come vi dico sempre, noi abbiamo a che fare preferibilmente con del materiale in vetro. è anche possibile utilizzare la plastica, ma come vi ricordo le sostanze naturali non amano il metallo. Quindi abbiamo versato soltanto l'acqua che c'era rimasta sul bicarbonato e la versiamo nella nostra bottiglietta. A questa andremo ad aggiungere due gocce di olio essenziale di lavanda e due gocce di olio essenziale di salvia. Chiudiamo con cura, agitiamo bene e il nostro spray è pronto ad ogni evenienza. Lo spruzziamo poi sulla pelle e quindi la zona può essere quella delle ascelle ma può essere anche direttamente sulle mani o sulla pianta del piede perché sicuramente le mamme sono tante che ci ascoltano in questo momento che hanno problemi con le scarpe da ginnastica, quindi con le scarpe sportive, dei propri ragazzi. L'ideale è di vaporizzarla sui piedi almeno un paio di volte al giorno e perché no anche all'interno delle calzature. In realtà la vera regina della preparazione di oggi è la salvia. La vedete qui in tutto il suo splendore. Peccato non possiate sentirne l'odore. La salvia è un agente purificante naturale eccezionale. Ci aiuta con la sua azione antibatterica, con la sua azione astringente, regolatrice delle ghiandole responsabili della produzione del sudore a riequilibrare la sudorazione e a renderla più naturale. Ecco perché riesce in qualche modo ad aiutarci con l'eccesso di sudorazione sia per via locale, preparando la nostra lozione di oggi, ma perché no anche utilizzandola in infuso. È sufficiente metterne un paio di foglie, due o tre foglie fresche all'interno di una tazza e versarci sopra dell'acqua bollente lasciando in infusione per 3-4 minuti prima di filtrare e utilizzarne poi due tazze al giorno. Per chi non avesse a disposizione la salvia, ma vi consiglio vivamente di piantarla sul vostro balcone, ci torna utile in cucina, ma ci torna utile anche per la nostra salute. Quindi potete utilizzare anche la pianta essiccata e versarne due cucchiaini all'interno della tazza bollente anziché le 3-4 foglioline che abbiamo visto poc'anzi. Per concludere la nostra puntata dobbiamo naturalmente rispondere alla posta del giorno. E oggi abbiamo un intervento molto interessante che ci ha fatto con la domanda il nostro telespettatore. Ci scrive Loredana da Cosenza Essendo una fumatrice mi capita spesso di soffrire, soprattutto durante la stagione invernale, di episodi di tosse caratterizzata da catarro e fastidio alla gola. Posso ricorrere a uno sciroppo naturale per evitare i farmaci che rischio di usare troppo frequentemente? Sicuramente sì. E anche se è molto fastidiosa, però Loredana, la tosse è un sintomo importante del nostro organismo. Seppur fastidioso, perché ci aiuta ad allontanare, a ripulire il nostro apparato respiratorio da agenti irritanti, quali possono essere la polvere, ma anche da virus e batteri che rimangono intrappolati nel muco che produciamo naturalmente e che viene poi eliminato. Quindi l'importante però è rendere le secrezioni fluide. Quindi questo catarro, questo muco, deve essere ben fluido e facilmente eliminabile. Come possiamo fare? Sicuramente, Loredana, mi sento di consigliarti una tisana molto interessante che puoi preparare mescolando circa 100 mg di radici di Altea, 60 g di frutti di anice, 30 g di fiori di timo, 20 g di radice di poligala e 20 g di radice di liquirizia. In realtà l'Altea è una pianta molto interessante perché è ricca di mucillaggini. Le mucillaggini sono quelle sostanze naturali che ci aiutano ad ammorbidire, sono sostanze emolienti che aiutano quindi a calmare la mucosa irritata e rendono un po' più facile l'espettorazione. Molto importanti in questa preparazione sono anche i semi di anice e perché no i fiorelle foglie del timo. Infatti questi rimedi naturali hanno dei principi attivi che agiscono da antispasmodici sulla tosse quindi calmano gli spasmi della mucosa e favoriscono proprio il calmarsi della tosse anche quando è secca. Infatti l'infuso che ho appena consigliato a Loredana va benissimo anche per chi ha problemi di tosse secca o un po' di influenza. Non possiamo dimenticare nella preparazione la radice di liquirizia che è un tipico tra l'altro prodotto nostro calabrese che ci serve a fluidificare il catarro perché è ricca di una sostanza naturale che si chiama saponina. Quindi le saponine sono principi attivi naturali che riescono ad aiutarci proprio nello sciogliere questo muco a volte troppo spesso, troppo catarrale per il benessere delle vie respiratorie quindi è un mix importante. Non mi resta che salutarvi e naturalmente di dirvi che vi aspetto qui alla prossima puntata di 30 minuti con la medicina naturale. Solo sulla C. Al prossima puntata di 30 minuti handicare